Swarovski Z8i, 1.8x24 reticolo 4aif più bt, non più il solito grandangolare per avere il massimo in ogni circostanza. Sì, non fa fatica, c'è un bel buco, mi sembra che c'è ferito, vedo che sta direi sangue, è spanciato, fa fatica, fa fatica. Sì. 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 Lontani quelli Lontani 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.